La minora è stata aggredita da 4 cani della sua famiglia mentre entrava in casa in zona La Canava 21. La minora è stata sopposta dai familiari che hanno chiesto un intervento della Guardia Zofila per toccare gli animali. Del 118 la ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ed ora le altre notizie.